Sare nel condotto Il destino dell'intera galassia? Mi spiace, per un attimo mi sono lasciata trasportare. Spero solo di poter studiare a dovere questo posto, una volta che tutto sarà finito. Pensavo che Saren ci avrebbe teso un'imboscata, una trappola. Probabilmente andavano troppo di fretta. Oppure ancora non ci siamo caduti.